Io cederei adesso la parola per un saluto al Presidente dell'Istituto Gramsci, il Professor Silvio Pons. Buonasera a tutti, ringrazio Giovanni Matteoli. Il mio compito è soltanto quello di fare un saluto, ma è un saluto che faccio con grande piacere e con grande rispetto per la figura di Emanuele Macaluso. Io non credo ci sia bisogno di spendere troppe parole per sottolineare il suo profilo di dirigente di primissimo piano, la storia del Partito Comunista Italiano, una figura direi persino classica, anzitutto della storia nazionale del PC. Ma in questa sede, in questo saluto breve che gli dedico e che dedico a tutti voi, io lo vorrei ricordare soprattutto per il suo impegno sotto il profilo della scrittura, di quello che Macaluso ci ha lasciato come memoria, come elaborazione della memoria, sia attraverso gli scritti più esplicitamente memorialistici, sia attraverso le sue battaglie civili che ha fatto fino all'ultimo, discutendo costantemente in modo appassionato, riportando la sua esperienza, il suo vissuto e la sua visione per la storia della politica, l'ascito e l'eredità del comunismo italiano nella storia d'Italia. Io credo che questo sia un patrimonio davvero particolare. Non sono molti i dirigenti, non soltanto della storia del comunismo italiano, ma diciamo più in generale, la storia delle culture politiche italiane, ad avere lasciato un'impronta così forte che richiede l'attenzione degli storici, di coloro che poi lavorano sulle fonti e quando si dedicano alla ricostruzione di determinate questioni, di problemi, momenti della storia nazionale e internazionale, si rivolgono anche naturalmente alla memorialistica di scritti. A questo punto di vista Macaluso è una figura particolarmente emblematica. Io lo vorrei ricordare perché accidentalmente ho avuto la fortuna di vederlo, sia pure online purtroppo, come succede ai nostri tempi e anche in questa nostra occasione di ricordo e di discussione del suo libro insieme a Claudio Petruccioli, ho avuto occasione di intervistarlo insieme ad altri dirigenti del Partito Comunista Italiano, proprio sulla storia del PC, in occasione del centesimo anniversario, in una tavola rotonda che poi è stata pubblicata. E in quell'occasione, ancora una volta, Macaluso ha dimostrato tutta la sua lucidità, la sua capacità di lettura e la sua, come devo dire, risolutezza anche nel portare, ripeto, un'esperienza personale di vissuto rielaborata in una chiave retrospettiva, come ha fatto nel libro di cui si parlerà oggi. Mi piace concludere questo saluto citando un paio di passaggi di questa ultima intervista, molto autobiografici. Il PC ha segnato la mia vita, è quella di migliaia di giovani, perché quel partito, oltre a una grande azione politica, ha svolto una funzione sociale e culturale. Formò molte coscienze, recuperò tanti giovani che, soprattutto nella mia terra, avrebbero potuto prendere strade sbagliate, pericolose e devianti e li rese cittadini, che poi fecero le grandi battaglie per la Costituente e per la Costituzione della Repubblica. Quel partito è la mia esistenza, di quegli anni e di quelli successivi, perché gli anni della clandestinità, del fascismo, della ricostruzione e della Costituzione sono stati formidabili per me e per un'intera generazione. E ancora, la mia preoccupazione fondamentale è che le nuove generazioni non abbiano strumenti con cui conciliare la battaglia culturale con quella politica quotidiana. Questa capacità e possibilità caratterizzavano il partito comunista. Penso che anche oggi ci siano ragazzi intelligenti e che hanno volontà politica, ma non esiste un momento, un punto di riferimento a cui fare capo per un confronto e una battaglia politica, senza la quale non c'è politica, perché la politica è battaglia politica. Vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente restituisco la parola a Giovanni Matteoli.